ciao la taroli oggi parliamo di un accessorio sottovalutato e molto importante guarda un po qua è questa classica bronzatura da ciclista anzi in questo caso una scottatura infatti ieri ho dimenticato la crema solare piccolo accessorio da tenere sempre presente nel nostro zaino insieme a quei quattro attrezzi per riparare la bici serve insieme gli integratori un po d'acqua ci vuole anche la crema solare specialmente se stiamo in montagna all'aperto anche a mare dove si aggiunge anche il riverbero dell'acqua vorcice dell'acqua se in questo caso i raggi solari hanno un'azione ancora più forte sulla nostra pelle e potenzialmente dannefici infatti se è vero che i raggi ultravioletti penetrano nella pelle stimolano la produzione di melanina e quindi responsabile la bronzatura è anche vero che è causa di irritazione della pelle specialmente come una pelle molto chiara quindi ricordiamoci sempre protetti in testa protetti agli occhi protetti le ginocchia protetti anche sulla pelle crema solare ciao prato con la boli con la bella